Dopo un'estate torrida e in arrivo un autunno caldo per gli automobilisti a Palermo, sarà la chiusura del sottopasso di via Crispi, altezza piazza 13 Vittime, a rivoluzionare la mobilità di una parte della città. Dal 22 agosto infatti inizieranno i lavori, attesi già da tempo, secondo quanto previsto all'ordinanza 987 del 10 agosto del 2022, di vieto di transito che dovrebbe prolungarsi per circa 30 giorni. La seconda fase dei lavori prevederà l'ulteriore stop alla circolazione soltanto per l'area di cantiere, lasciando così libera una corsia di circa 3 metri. Saranno gli ulteriori divieti di sosta a complicare la vita degli automobilisti, istituiti nei tratti di via Crispi, compresi tra via Onorato e via San Sebastiano, ciò per facilitare il deflusso dei mezzi in direzione Cala o in alternativa verso via Cavour. Come misura per contenere il traffico, che sicuramente si creerà, è stata emessa una seconda ordinanza la 988 del 10 agosto 2022, che ordina la sospensione relativa all'istituzione della ZTL centrale dalle 8 alle 20, limitatamente a via Roma e alle vie Squarcialupo e Castello. Fermo restando la limitazione del resto della zona e fermo restando la ZTL notturna, durante le due fasi lavorative, non consecutive di 30 giorni ciascuna, necessarie per la demolizione degli intonaci delle pareti del sottopasso viario, divieto di transito dei mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate nell'area interessata dal cantiere, con obbligo di svolta a destra in uscita dall'area portuale. Sarà inoltre istituito un percorso alternativo, mediante il posizionamento dei segnaletti Calungole, vie Squarcialupo e Castello.